porta mappe in pvc ex dotazione germania est per le truppe lnva national volks armé costruito interamente in materiali tipo sky molto solidi robusti bullonato giunture per passante metalliche questi tre passanti servivano per regolare l'altezza a seconda del contenuto poi si chiudeva in questa maniera ovviamente la chiusura è fatta in modo tale che sia di tipo rapido per aprirlo vediamo all'interno abbiamo la chiusura sempre per il laterale ovviamente quando viene messa luna viene messa anche questa una cinghietta di ritenzione una taschina probabilmente serviva per mantenere dentro materiali tipo gomma cancellare e similari un portapenne molto particolare in quanto ha un foro e la matita o penna veniva inserita fino in fondo all'interno abbiamo la parte trasparente che serviva semplicemente per mettere le mappe e poterle vedere questa parte ovviamente doppia questa pezzuola di tessuto morbido serve per non far attaccare le due le due parti all'interno troviamo un doppio scomparto e la costruzione fatta fisarmonica in modo tale che si può ampliare la visoria lo spallaccio contenuto all'interno lo chiudiamo in maniera corretta sul retro i due agganci per i moschettoni per i moschettoni che andavano messi in questa maniera moschettoni metallici cinghia regolabile poi questa venia portata a tracolla ottimamente conservato in quanto nuovo di magazzino è pressoché totalmente impermeabile in quanto costruito tutto in sky 4 5 6 8 8 9 8 9 9 10 10 Grazie a tutti.